Calcio mercato che si avvicina sempre più verso il gong, finale delle trattative, previsto insomma per domani. Massimo Profeta, com'è la situazione in casa Pescara? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione all'ascolto. Intanto guarda, ti do una indiscrezione che è stata lanciata in realtà da Gianluca Di Marzio, al suo portale, perché alla Pescara interesserebbe Alessio Curcio, che è un pupillo di Zeman, è stato all'indipendenza del Boemo, proprio due stagioni orsono a Foggia, 29 gol in due anni nel Foggia. Lo scorso anno, 11, non era titolarissimo nel Catanzaro, che ha stravinto il campionato. Ebbene, guarda, ti do proprio la notizia in diretta perché io ho contattato Vincenzo Pisacani. Intanto c'è da dire che Alessio Curcio è in uscita dal Catanzaro, me l'ha detto Orora, proprio Vincenzo Viverini, con il quale abbiamo un ottimo rapporto. Vincenzo Pisacani è l'agente di Alessio Curcio. La domanda è stata questa, la posso dire anche in diretta, perché insomma è il bello, come si suol dire, della diretta. Si può fare Vincenzo, Curcio o Pescara? La risposta è stata no, Massimo. Quindi vedremo, perché poi quello che non si può fare adesso, caro Carmine, tu lo sai, mi insegni, si può fare magari tra un minuto, due minuti. Comunque, insomma, Curcio è stato accostato al Pescara, in realtà in attacco c'è abbondanza sotto questo profilo. Il Pescara per correggere e migliorare la rosa, lo sappiamo tutti, lo sanno tutti, deve intanto prendere una mezzala di corsa, una mezzala a tutto campo. Ebbene, i profili sono sempre soliti. Simone Franchini, 25 anni, che è di proprietà del Padova, è legato al club Veneto sino al 30 giugno 2026. C'è una situazione un po' particolare in realtà, Carmine, perché Franchini non ha più buoni rapporti col suo allenatore torrente, che lo vede più esterno di centro campo e non mezzala. Il ragazzo vorrebbe giocare a mezzala. C'è il suo agente, Saulo Catellani, che è stato un ottimo trequartista in SREB gli ultimi anni nello Spezza, lo ricorderanno gli sportivi e i calciofili. Ebbene, sta forzando sulla società, però lo stesso Mirabelli di S. del Padova mi ha scritto proprio qualche minuto fa, Massimo, io non ho ancora sentito nessuno del Pescara. Per quanto riguarda invece gli altri profili che sono stati monitorati da tempo, Fabio Scarsella, 34 anni, non ha bisogno di presentazione, di presentazione è in uscita dalla Vicenza. Ancora un anno di contratto, un ingaggio pesante, 175 mila euro netti. Vedremo quello che succederà, perché comunque a Delicarri piace molto, sarebbe il profilo ideale per Zeman, per le squadre del Boemo. Vedremo quello che potrà succedere nelle prossime ore. Certamente questo è un giocatore importante in SREC, 400 presenze, oltre 400 presenze da Mizzala, ha segnato 92 gol. Altro profilo Tribuzzi, che però non è in uscita dal Crotone, così come Battistella dal Modena. Queste sono le notizie, c'è anche il difensore nel mirino del Pescara, e si parla ormai da giorni di Davide Di Pasquale, altro giocatore che è stato alle dipendenze di Zeman, due stagioni orsone, un classe 96 abruzzese di Sant'Omero, è cresciuto nelle fila del Pescara, nel settore giovanile, tornerebbe di buon grado naturalmente a giocare nella prima squadra della sua carriera calcistica, è in procinto di risolvere il rapporto con l'Arezzo, a cui si era legato Davide Di Pasquale circa un mese fa. Staremo a vedere. Notizie dal campo, visto che ormai ci siamo. Ci siamo. Fuori Tommasini, fuori Vergani, per infortunio non sono ancora al meglio i due giocatori che ho citato. Attenzione perché sarà fuori anche Cangiano. Per la prima sabato sera, ore 20.45, allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia contro la Juve Under 23. Lo stadio rifatto, almeno per quanto riguarda la tribuna Adriatica. Lo stadio rifatto, un bel colpo d'occhio, abbiamo visto anche dalle foto che sono state pubblicate su Facebook e dagli organi di informazione e le scelte sono obbligate. Merola, Cupone e Accornero in attacco. Attenzione perché a centrocampo potrebbe giocare Aloy davanti alla difesa con Squizzato, Mizzala e Tuniov dall'altra parte. Mentre in difesa, Pellacani insidia. Pellacani che in grande ripresa insidia Brosco. Pellacani che in grande ripresa insidia